Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Bart e oggi faremo la reaction alla nuova season di Brawl Ecco adesso vi trovo, questa è l'immagine sul mio telefono e adesso vi farò vedere la reaction appunto al Brawl Talk Ecco qua Ok Vediamo Nuovo Brawl Nuovo skin Una nuova mod Una nuova Ragazzi No Ragazzi, no ma chi Chi sei No vabbè, non mi dire che questo è il nuovo Brawler Stu Stu, no vabbè bellissimo È la cosa più bella del mondo È uno stick a fighissimo Ma che lancia? Ma Ma il corpo si muove? Fire technique, cioè Tipo di fuoco Assurdo E poi sicura vedo, mi sa che una stellare Un dash E lascia pure il fuoco sotto Carino Che, raga io ce l'ho Ten thousand Ma io ce l'ho Raga, quando arriverà Nooo Casi Droll ball Che si si Berisci Carino PSG Dark Carino Carinissio Power play Is dead What? Because we came up with something better No, power play What? What? Cosa? No, raga cosa? Cosa? Power play No 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 Oddio che strano, raga Oddio Carino Molto strano eh Però Wow Quindi non c'è più la stagione Non c'è più la stagione Oddio Oh dior Oh dior Oh dior Oh dior Cosa? No c'è più la stagione Non c'è più la stagione Non, beh bellissimo Bellissimo Wow Wow Ah lo vuoi bloccare 4k Ok Come? No Mettano la La Sige Babylante E Come 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 Raga Fantastica Ok Frank Checklist time Are we going to have Brawl Stars Kit? Are we releasing Brawl Stars 2? Raga Non ho parole Scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di questo Brawl Talk E comunque niente Da Bart è tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Lasciate like e iscrivetevi al canale Ciao